lenti fumatori buongiorno da moreno vi faccio quest'oggi un'altra piccola parentesi sigarofila sigaro italianofila e infatti stiamo rimpolpando le fila della playlist sigaro italiani che vi lascio qui sotto ma oggi sarò breve e conciso vi voglio parlare di questo italico tradizionale di mosi moderno pificio del sigaro italiano che sto fumando in questi giorni ho fumato abbastanza assiduamente un ammezzato o due al giorno per tutta questa settimana manager ne avevo già fumata durante il corso dell'anno un'altra scatola intera da cinque sigari e una o due non mi ricordo scatole da due sigari e il costo della scatola è 5 euro e qualcosa su internet è indicato 5 delle altre volte 5 30 io perdonatemi non mi ricordo comunque il rapporto alla proporzione se consideriamo i sigari ammezzati è poco più di 50 centesimi a sigaro e questo è molto importante per parlare di questo sigaro che si pone infatti come un entry level un sigaro di fascia diciamo bassa dato il costo si presenta non in cerofanato ma vi starò facendo vedere o vi ho fatto vedere l'apertura della scatola con tutte le caratteristiche l'unica scritta che compare è da un'attenta scelta della migliori foglie di tabacco pentachi nasce il sigaro ambasciatore italico la piena espressione dello stile italiano unita all'amore per le cose fatte bene dunque la maturazione come vedete è due foglie su cinque quindi è un sigaro maturato poco immagino quattro mesi sei mesi una cosa del genere la composizione è tabacco campano anche in questo caso per il ripieno invece la fascia tabacco sempre italiano ma veronese quindi non mi era mai capitato forse non avevo mai fatto attenzione ma è la prima volta che fumo un tabacco un sigaro italiano con fascia di tabacco veronese allora da qui a dire che sento le differenze è tutto un programma ecco comunque ha un qualcosa di diverso sicuramente questo sigaro si esprime in modo diverso allora io vi dico subito che a questo sigaro ho preferito gli altri che avete visto negli altri video anche se sono leggermente più costosi parlo del nazionale parlo del novecento del borbonico anche se è diverso ma ora provo anche a spiegarvi perché è un sigaro dal tiraggio aperto apertissimo molto aperto forse troppo aperto però è un sigaro ben costruito anche se la fascia insomma non è che sia esente da imperfezioni è un sigaro che ha un gusto suo ha un sapore che però è un sapore immediato cioè arriva subito quello è e non ha persistenza non ha profondità questo sapore appena concludete la boccata quello che doveva essere è stato finisce subito lì dopo qualche secondo la bocca ritorna a essere scarica da qualsivoglia sapore ecco questo detto un po così poi ovviamente qualcosa rimane è un sigaro che probabilmente per il prezzo che ha è giusto che sia così io non sono assolutamente un esperto però la sensazione che mi dà che mi lascia è questa mancanza di profondità mancanza di spessore anche una mancanza di finezza cioè quel sapore quel gusto che arriva è ben percepibile è soddisfacente anche per il mio palato ma è cioè non ha una rotondità non ha profondità ecco è un sigaro assolutamente disimpegnato per il costo che ha io vi consiglio comunque di provarlo e farvi la vostra idea come per i tabacchi da pipa non sono certo i miei pareri a essere universalmente riconosciuti anzi quindi per il costo che ha provatelo un'altra cosa e poi fatemi sapere ovviamente qua sotto dopo esservi iscritti al canale e fatemi sapere cosa ne pensate un'altra cosa che ho notato è che la fascia è molto lucida delle volte non è ancora uno che vi mostro un po' disomogenea ma anche molto rigida è un sigaro che non scrocchia nel senso che anche se secco la fascia è talmente rigida è molto dura rigida e non c'è si fa fatica sembra quasi una fascia non lo so sembra quasi non ci sia contatto tra il il sigaro e la fascia ecco non è il solo caso mi è successo in altri casi di trovare queste fasce così molto molto dure molto lucide sicuramente è saporita un sapore davvero particolare è un sigaro che al momento credo che non ricomprerò anche se comunque me lo sono goduto questa settimana che ci ho messo un po' di attenzione nel fumarlo però forse perché mi va di vagabondare in altri lì di provare altre cose visto che sono in una fase kentucky friendly sigaro friendly friendly però ve lo segnalo così che anche voi mi facciate sapere cosa ne pensate e così che possiamo parlarne vi saluto da moreno a presto